La sintoniana sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso. La trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satelitale della Camera dei Deputati. Audizione del direttore dell'agenzia delle entrate, Ingegnar Roberto Reggi. E' demanio. E' demanio, scusa, scusa. No, è... Perché ho visto un brutto articolo oggi sulla stanza di mani. Eh, non vorrei... Stavo pensando all'Orlandi. No, no, no. L'ordine... L'ordine del giorno rega l'audizione dell'agenzia del demanio, Ingegnar Roberto Reggi, che anche in nome dei colleghi ringrazio per aver raccolto l'invito della Commissione. Sono presenti inoltre l'ingegnere Paolo Maranca, direttore generale centrale gestione patrimonio immobiliare dello stato dell'agenzia del demanio, e la dottoressa Cinzia Spizzichino, responsabile dei sistemi informativi dell'agenzia del demanio. L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagra di tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materie economiche e finanziarie. Potenzialità e criticità del sistema nel contesto dell'evasione di scado. Quindi la parola all'ingegnere Reggi, con il sistema per me e per i colleghi che rivolgono al termine del suo intervento domande e richieste di chiedere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Articolerò il mio intervento soffermandomi sul sistema delle banche dati dell'agenzia del demanio, in particolare sulle due banche dati principali, la banca dati immobiliare REMS, Real Estate Management System e il portale PA, pubblica amministrazione. Poi parlerò delle modalità di individuazione dei beni censiti dello Stato e della possibilità di estensione agli enti territoriali. Parlerò poi della intercomunicabilità, l'integrazione con le altre amministrazioni centrali dello Stato e infine dei rapporti tra l'agenzia del demanio e gli enti territoriali per la gestione del loro patrimonio immobiliare. Allora intanto l'agenzia del demanio detiene una mole estremamente rilevante di informazione relativa al patrimonio immobiliare dello Stato attraverso un sistema integrato di banche dati, il REMS e il portale PA. Il REMS è la banca dati immobiliare attraverso la quale l'agenzia cataloga e gestisce i beni dello Stato appartenente al patrimonio disponibile e indisponibile e al demanio storico-artistico. È inoltre lo strumento attraverso il quale avviene la comunicazione telematica con la ragioneria generale dello Stato per la predisposizione del conto generale del patrimonio. Il portale PA invece è uno strumento ideato dall'agenzia del demanio per governare le razionalizzazioni e consentire alle amministrazioni statali di adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti da specifiche disposizioni normative. Questo sistema, implementato direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato, consente di acquisire le informazioni relative alla previsione triennale dei fabbisogni allocativi, ai costi d'uso e ai consumi energetici di ciascun utilizzo, nonché di determinare e valutare l'indicatore di performance. Descrivo in maniera dettagliata i due sistemi di banche dati, partendo dalla banca dati REMS e l'Estate Management System. Il sistema informativo di questa banca dati è funzionale alla gestione dei 47.386 immobili dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dal demanio storico-ortistico, per un valore complessivo di libro di 59,7 miliardi di euro. Il 70% dei beni è costituito da fabbricati, che rappresentano oltre il 90% del valore complessivo. Il restante 30%, con 10% di valore, è rappresentato da terreni. Se guardate la rappresentazione grafica, vedrete che il patrimonio indisponibile è la parte più rilevante, con l'inuso governativo in particolare, 22.327 beni per un valore di libro di 35,6 miliardi. Il patrimonio afferente al demanio storico-artistico è rappresentato da 5.921 beni, con 21,3 miliardi di euro di valore. Infine, il patrimonio disponibile, che in numero è poco meno del 50% come beni, rappresenta soltanto un valore di 2,7 miliardi di euro, quindi inferiore al 5% del valore complessivo degli immobili dello Stato. Le informazioni contenute nella banca dati, oltre ad avere uno scopo puramente conoscitivo, sono finalizzate a supportare i processi gestionali propri dei beni pubblici e a redigere annualmente il conto generale del patrimonio, attraverso lo scambio telematico delle informazioni con le ragionerie provinciali e con la ragioneria generale dello Stato. Le informazioni sono classificabili in funzione della loro natura, in tecnico-fisiche, riferite alle superfici, ai volumi, al valore, ai dati catastali, alle caratteristiche costruttive, alle destinazioni d'uso, alla natura amministrativa, relativa quindi alle categorie patrimoniali, al codice SEC, che è il sistema europeo dei conti, le modalità di acquisizione, eccetera, e di gestione dell'occupazione, utilizzatori presenti, tipologie contrattuali, scadenziari, eccetera. Natura contabile, relativa alle funzioni di cassa, emissione, massiva e puntuale, dei modelli di pagamento F24 collegati alle utenze e riconciliazione dei pagamenti grazie al dialogo con il sistema anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, gestione dell'intera procedura di sollecito dei crediti non riscossi, fino all'iscrizione al ruolo del titolo, adeguamento automatico istrat dei canoni. Poi la classificazione di natura documentale, relativa all'archiviazione e gestione dei documenti collegati al bene, amministrativi, tecnici e immagini. A titolo esemplificativo sono presenti oggi al sistema oltre 10.600 documenti amministrativi, oltre 18.500 documenti tecnici e oltre 13.200 fotografie. Infine, la classificazione di tipo cartografica, relativa alla localizzazione geografica dei beni su base cartografica, attraverso un sistema GIS, Geographical Information System, è possibile visualizzare i beni dei portafogli gestiti sul territorio con il corredo informativo di oltre 300 tematismi. Quello che segue è la ripartizione delle caratteristiche dei beni attraverso le varie tipologie. Tecnico-fisico, vedete, l'anagrafe del bene, l'anno, l'epoca di costruzione, il valore stimato, le varie superfici, volume, numero di piani, destinazione, stato di manutenzione, eccetera. Dal punto di vista amministrativo, oltre le modalità di acquisizione e l'atto di provenienza, c'è la descrizione dell'utenza, la natura di occupazione e normativa di riferimento, le varie date di prima occupazione, di stipula, inizio utenza, scadenza utenza, eccetera. I dati contabili sono riferiti al canone, agli aggiornamenti Istat, periodicità di emissione, schedulazione massiva e puntuale, l'importo emesso, riscosso, il credito residuo, la prima richiesta di pagamento, la seconda richiesta di pagamento, fino all'iscrizione a ruolo, poi c'è la classificazione documentale, con le varie planimetrie e gli elaborati grafici, e infine il tematismo cartografico, che definisce i confini regionali, provinciali e comunali, i porti, gli aeroporti e le ferrovie, i parchi regionali nelle riserve naturali, gli osservatori del mercato immobiliare, classificazione sismica, ideografia fluviale, e l'uso del suolo, i piani regolatori, i vincoli, fine piani attuativi. L'organizzazione dei dati, di qualsiasi tipologia, è legata all'articolazione fisica del bene. Ogni entità è individuata da una codifica univoca che lo collega all'entità padre da cui deriva. La codifica principale, legata alla scheda barato di provenienza, è costituita da una sequenza alfanumerica che consente di individuare la provincia di appartenenza, sono le prime due lettere, la classificazione amministrativa del bene, la terza lettera, che classifica patrimonio, demagno storico-artistico, eccetera, e infine il codice numerico registrato presso la ragioneria generale dello Stato. Di seguito è schematizzata la gerarchia degli elementi fisici rappresentati in banca dati. Il fabbricato e l'area, i cosiddetti cespiti, sono le entità di riferimento anche in virtù del fatto che costituiscono il livello prescerto di interlocuzione con la ragioneria generale dello Stato, è appunto l'elemento di scambio tra i due enti. Esaurita la descrizione del sistema RENS, passo alla descrizione del portale IPA, che è lo strumento che supporta l'Agenzia del demagno nell'espletamento degli specifici processi finalizzati su fare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, quali ad esempio la predisposizione dei piani di razionalizzazione degli spazi, elaborati anche con riferimento al rapporto metro-quadro per addetto, calcolato automaticamente dal portale IPA sulla base dell'informazione inserita al sistema dalle amministrazioni centrali. L'adozione, in qualità di manutentore unico, delle decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare sui mobili di proprietà dello Stato assegnati in uso governativo o di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo delle amministrazioni statali. E infine, la determinazione dell'indicatore di performance in termini di costo d'uso per addetto, elaborati sulla base delle informazioni comunicate sempre dalle amministrazioni centrali relative ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di soggetti terzi. Il portale IPA si articola in quattro sezioni. La sezione Razio, rilevazione periodica fra bisogni locativi. La sezione SIM, rilevazione periodica delle spese per gli interventi manutentivi. La sezione PTIM, previsione triennale interventi manutentivi. E infine, la sezione IPER, rilevazione indici di performance. Descrivo brevemente queste quattro sezioni. La sezione Razio serve per la comunicazione da parte delle amministrazioni statali delle previsioni triennale dei fra bisogni allocativi e delle superfici occupate non più necessarie ai sensi dell'articolo 2,222 della legge 191 del 2009. Per quanto riguarda la responsabilità e la frequenza dell'aggiornamento dati, le amministrazioni dello Stato sono responsabili dei dati dalle medesime inserite al sistema, nonché del relativo e costante aggiornamento. La comunicazione della previsione triennale di fra bisogni allocativi avviene entro il 31 gennaio di ogni anno. Allo Stato risultano inserite dall'amministrazione sul portale Pia Razio utilizzi in immobili di proprietà dello Stato, in beni conferiti ai fondi immobiliari pubblici, FIP e Patrimonio 1, in immobili di proprietà di terzi detenuti in locazione passiva e incomodato d'uso. Il numero complessivo di utilizzi inserito al sistema è pari a 21.801, di cui 12.703, il 58%, presso immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso governativo, 529, il 2,5%, presso immobili FIP e Patrimonio 1, per canoni di circa 250 milioni di euro annui, 838, che rappresenta il 4%, presso immobili incomodato d'uso, e infine 7.731, che rappresenta il 35,5%, in beni di proprietà di terzi a fronte della corrisponsione di un canone complessivo di circa 665 milioni di euro all'anno. Lo sviluppo dei piani di razionalizzazione è supportato anche dall'applicativo Paloma, Public Administration Location Management, che costituisce per l'amministrazione dello Stato una vetrina immobiliare consultabile nell'ambito della ricerca di nuovi spazi. Sono presenti nel sistema beni di proprietà dello Stato, immobili di proprietà di enti territoriali e non territoriali, nonché offerte locative inserite anche da privati. La sezione SIM del portale IPA serve per la comunicazione da parte dell'amministrazione statale degli interventi manutentivi effettuati, quindi a consuntivo, sugli immobili di proprietà dello Stato e su quelli di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 2,222 della legge 191 del 2009. La responsabilità e la frequenza dell'aggiornamento dei dati è in carico alle amministrazioni dello Stato, che sono responsabili dei dati inseriti a sistema. La comunicazione degli interventi manutentivi, nonché l'ammontare dei relativi oneri, avviene con cadenza semestrale. La sezione PTIM, il sistema centrato per la manutenzione, serve per la comunicazione annuale delle previsioni triennali degli interventi di manutenzione, come previsto dall'articolo 12 del DL 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011. La norma ha attribuito all'Agenzia del Demanio il processo decisionale di spesa degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni centrali dello Stato, svolgendo inoltre il ruolo centrale di committenza per la preventiva individuazione degli operatori, cui affidare l'esecuzione degli interventi, mediante la sottoscrizione di appositi accordi quadro. Si articola in una serie di applicativi informatici che consentono di assicurarne il corretto ed efficace funzionamento in ciascuna delle fasi in cui si concretizza il processo. Acquisizione dei fabbisogni dell'amministrazione dello Stato, indicazione delle priorità tecniche degli interventi e validazione dei costi stimati da parte dei provveditorati che ne curano poi in via esclusiva l'esecuzione, l'elaborazione del piano generale degli interventi da parte dell'Agenzia del Demanio, la gestione degli accordi quadro e la selezione automatica dell'impresa a cui affidare gli interventi manutentivi, e infine il monitoraggio dell'andamento degli interventi programmati ed in corso di realizzazione. Infine, la sezione IPER del portale IPA rappresenta l'applicativo informatico che raccoglie i dati e le informazioni per ciascuna occupazione strumentale dell'amministrazione dello Stato relative a caratteristiche fisiche, certificazione energetica, tipologia dei contratti, consumi energetici, costi energetici e gestionali. Questo applicativo che è stato sviluppato dall'Agenzia è funzionale al calcolo degli indicatori di performance in termini di costo d'uso per addetto, il cui modulo è in fase di implementazione. Il caricamento dei dati riferiti alle singole annualità è nella responsabilità dell'amministrazione usuaria degli immobili dello Stato o dei proprietari terzi. L'applicativo confronta tali indicatori con quelli di altre occupazioni aventi caratteristiche similari per microtipologia, zona climatica, superfici, tipologie impianti, ecc. Ovvero un benchmark esterno, con benchmark esterni, pervenendo all'individuazione dei migliori valori di riferimento e dalla conseguente valutazione sulla convenienza economica delle modalità di utilizzo degli edifici occupati. In relazione a ciò, le amministrazioni dovranno, al fine di conseguire risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, adeguarsi ai migliori indici prestazionali. Per quanto riguarda l'individuazione dei beni censiti e la possibilità di estensione agli enti territoriali, occorre dire che i beni degli enti territoriali non vengono gestiti all'interno delle banche dati dell'Agenzia del Demagno. Ciò non toglie che l'infrastruttura realizzata per i beni dello Stato possa consentire anche la gestione di portafogli immobiliari di proprietari terzi, a valle però di un'attenta valutazione e armonizzazione delle fonti alimentanti. Nella logica degli Open Data, si vuole strutturare un'unica banca dati immobiliari condivisa da tutti i soggetti pubblici, nella quale sia possibile visualizzare le informazioni tecnico-amministrative relative agli immobili, nonché quelle con finalità gestionale, quindi che tenga conto dell'utilizzo, le valutazioni, la potenzialità di trasformazione, eccetera, che possono consentire di configurare sistemi interconnessi di conoscenza aggregando anche le informazioni di contesto, i dati economico-sociali, le destinazioni degli strumenti di governo del territorio, eccetera. Si tratta di un'operazione che tramite il tavolo tecnico che è stato istituito presso il MEF, prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici proprietari di immobili, per condividere una serie di metodologie, parametri e modalità di implementazione che possono consentire progressivamente una visualizzazione completa e dinamica del patrimonio immobiliare. L'obiettivo è quello di superare la pluralità di banche dati esistenti ai vari livelli istituzionali, spesso realizzate con obiettivi specifici di gestione, ma particolari, che rende complessa l'integrazione delle informazioni sia alfanumeriche che su base grafiche. Passo quindi al tema della intercomunicabilità e integrazione con le altre amministrazioni centrali. Presso il Dipartimento del Tesoro del MEF è stato istituito un tavolo di lavoro finalizzato ad integrare le banche dati delle amministrazioni centrali, per evitare inutile duplicazioni di dati all'interno dei sistemi. Attraverso meccanismi di interoperabilità tra sistemi, il dato affidabile deve essere acquisito dalle banche dati di proprietà del soggetto istituzionale preposto alla sua gestione. In quest'ottica, il sistema di gestione immobiliare RAHMS dell'Agenzia del Demagno ha aperto un canale di interoperabilità con il sistema del catastro immobiliare gestito dall'Agenzia delle Entrate. Attraverso l'inserimento di un identificativo catastale è possibile accedere in tempo reale alla banca dati del catastro, verificare la correttezza dell'informazione ed acquisire tutti i dati presenti nel catastro, utile all'Agenzia del Demagno non solo ai fini conoscitivi, ma anche per il pagamento delle imposte, l'IMU in particolare. È inoltre appienamento operativo e il flusso telematico delle note contabili con la ragioneria generale dello Stato, sia in termini di dati che di documenti elettronici. L'esperienza, oltre a rappresentare una garanzia in termini di affidabilità e completezza del dato trasmesso, costituisce un importante passo in avanti in termini di dematerializzazione dei documenti. Infine, in ambiti riscossione, vengono ammessi dai nostri sistemi i modelli F24 per il pagamento dei canali demaniali e per l'emissione delle cartelle esattoriali, i cosiddetti ruoli. Ciò consente all'Agenzia di disporre sui propri sistemi dell'informazione di ritorno sugli avvenuti pagamenti. Infine, il tema dei rapporti tra l'Agenzia del Demagno e l'inti territoriale per la gestione del loro patrimonio immobiliare. Le più recenti disposizioni normative di indirizzo politico, in particolare gli atti di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno contribuito ad ampliare le attività e le azioni dell'Agenzia del Demagno con riferimento ai patrimoni immobiliari dei proprietà di soggetti pubblici diversi dello Stato, con particolare riguardo agli enti territoriali. Sulla base di tale indirizzo, l'Agenzia del Demagno operato e opera, per quanto riguarda i rapporti collienti, in relazione ad attività previste per legge, nonché su programmi e progetti condivisi tra l'amministrazione centrale e quelle territoriali e locali. Per supportare tale attività e programmi, viene di norma predisposto un archivio di dati per l'acquisizione di informazioni sul patrimonio immobiliare degli enti. Riporto due esempi significativi di questa modalità. Il progetto Valore Paese di More, che ha ampliato agli enti pubblici e locali una metodologia di qualificazione di un portafoglio immobiliare selezionato attraverso le caratteristiche architettoniche di preso degli immobili e la presenza o la vocazione ad assumere destinazioni d'uso compatibile con la tutela del bene. E infine, il programma di vendita straordinaria, che in corso del 2013 e previsto fino al 2017, ha reso necessaria la standardizzazione di informazioni sugli immobili degli enti pubblici e locali per consentire la loro valutazione e selezione ai fini della dismissione. Mi fermo qui, spero di essere stato esauriente pur nella sinteticità dell'esposizione. Grazie. Ingegnere Pagano. Bravissimo. Grazie ingegnere. E poi devo dire, faccio anche complimenti perché insomma, abbiamo anche metodologicamente un buon sistema per avere finalmente una fotografia chiara. Eravamo tutti vogliosi di saperne di più e finalmente insomma abbiamo uno schema che dà chiarezza. Ci sono alcune cose che però vorrei un attimo avere chiarito. Intanto con riferimento al patrimonio non statale. Ci sono una serie di problematiche che secondo me devono essere oggi messe in evidenza. per esempio province. Ormai sappiamo bene che sono un istituto che va a finire però il patrimonio immobiliare è notevole. E bisogna fare una riflessione per capire intanto come censirlo e poi anche fare in proiezione un ragionamento per comprendere tutto questo valore e questo patrimonio come ben utilizzarlo. Stesso principio vale per le risorse umane di questi enti. Ma quella è un'altra storia. è un'altra storia. Quello è previsto però ci sono tanti tanti buchi neri. Chiamiamo? È il secondo messo. Invece quello che un po' lascia perplesso è il programma di vendita straordinaria perché sono anni che se ne sente parlare non solo dal 2014 e ogni volta è un flop clamoroso soprattutto con riferimento agli immobili di origine militare e vorrei saperne qualcosa in più. Poi c'è un'altra domanda che non mi ricordo che ho trovato però può essere che da qui alla fine la troverò quella che ho segnato e quindi aggiungerò mi riservo di farne un'altra. Qual è la parte di demanio pubblico che viene sottratta dalla vostra competenza? Perché questo mi sembra importante per avere un quadro di insieme chiaro. Per esempio il demanio costiero non c'è qui e il demanio militare neanche. Quando vengono smilitarizzati se non sbaglio passano a voi cioè ci sono cioè perché poi questa è una parte una parte importante del patrimonio immobiliare dello Stato. Questa è un'altra questione che se crea difficoltà noi figuriamoci poi ecco su questo se ci dà qualche qualche delucidazione perché potrebbe completare la sua relazione per la quale anche io la ringrazio che ci sarà molto utile. Grazie. Io sì volevo agganciarmi un po' alla domanda precedente perché a proposito del demanio marittimo ci sono 7000 km di coste che sono praticamente non in qualche modo messe in chiaro dal punto di vista della gestione e questo crea dei problemi enormi per le imprese balneari non si capisce quanto come siano distribuite quanto si paghe di canoni chi lo paga chi non lo paga per cui ogni anno è legge di stabilità poi ci troviamo delle normative tampone che non vengono poi in qualche modo non rispecchiano mai una gestione ordinaria quindi questa è una cosa assolutamente sicuramente il discorso del federalismo demaniale ha complicato tutto questo però a questo punto se la gestione è frammentata ci deve essere poi sicuramente un organo superiore che in qualche modo gestisca poi il metta insieme insomma i dati relativi alle varie gestioni poi dopo regionali o federali quel che si voglia questo da una parte dall'altra parte un'osservazione molto bene la relazione però sembra sempre che tutto vada bene dopodiché poi c'è un tassello che manca sempre la interfaccia con il cittadino perché alla fine dei conti proprio detta molto semplicemente una persona che paga un livello di tassazione sull'immobile così elevato e poi non sa neanche non può venire a conoscenza adesso al di là ovviamente dei beni prettamente demaniali ma comunque dell'assetto generale dei beni pubblici e della gestione dei beni pubblici in modo chiaro chiaramente non è una persona ben trattata dallo Stato perché poi vengono a scoprirsi delle gestioni quantomeno allegre e bizzarre sia come poi affitti che anche come prezzi di vendita nel momento in cui ci sono eventuali smobilizzi questo chiaramente lei mi risponderà che riguarda sicuramente il patrimonio disponibile non il demanio però ecco delle osservazioni in merito in generale per quello che riguarda i beni pubblici perché comunque alla fine se siamo qui in una commissione unica è anche per creare un'armonia tra le varie pubbliche amministrazioni mediante delle banche dati chiare ed armonizzate altrimenti se ogni pubblica amministrazione guarda diciamo soltanto il proprio settore e ambito senza coordinarsi con le altre chiarezza nei dati non ci sarà mai quindi ecco se si prevede la domanda è questa se si prevede intanto quella del demanio costiero perché sottolineo certe volte addirittura dato il caos nella gestione si paventa la sdemanializzazione delle coste per mettere questo tampone definitivamente e questo ovviamente sarebbe devastante quindi fino a che non si riesce a gestire bene le minacce ci sono e poi appunto se c'è una prospettiva di chiarificazione generale di messa in luce di tutta la gestione del patrimonio pubblico tramite un sito tramite una cosa cui può accedere in maniera semplice qualunque cittadino e può vedere vita, morte e miracoli dell'immobile dove si trova dove è locato e quanto è locato grazie sì ma anch'io sul demanio marittimo in relazione alle ipotesi di smissione che sono state più volte fatte in relazione anche all'incertezza che vi è per la Bolkestein come il direttore sa sicuramente perché il problema non è tanto sull'incertezza che vi è sul canone o su chi lo fa bagare o sulla gestione di questo bene quanto sul prossimo futuro in relazione all'istituto che ne regola appunto l'utilizzo oggi la concessione perché naturalmente è un bene demaniale domani qualcuno ipotizza potesse essere un altro istituto come l'affitto o addirittura la proprietà in relazione a una sua sdemanializzazione anche perché la fruizione collettiva del bene ne spiaggia secondo moltissimi rimarrebbe uguale a quella che è oggi visto che si andrebbe a sdemanializzare solo l'area di giacitura dello stabilimento balneare l'agenzia ha fatto delle ipotesi al riguardo cioè si è interessata concretamente di verificare gli esiti di un'ipotesi di questo tipo una domanda anch'io ho letto in questi giorni un articolo un articolo che ho apprezzato su un giornale nazionale dove lei ipotizzava una vendita del patrimonio una ristrutturazione degli immobili non in vendita per diciamo far funzionare o meglio far rendere questo patrimonio che oggi in sostanza costa soltanto tanto denaro la mia domanda poi un'altra domanda è sulle spiagge come ha fatto con molta concretezza chi conosce la spiagge della Liguria dove vado io e ha voglia di oltrepassare il confine vede una differenza tra la costa azzurra e la Liguria dove in un momento così di crisi almeno in questi anni adesso si parla di questa ripresa i nostri stabilimenti sono oggettivamente di serie C rapportato agli altri paesi e questo perché parlando con i proprietari per fare una domanda molto concreta è chiaro che se hanno concessioni dove non possono fare investimenti perché il rinnovo di una concessione balneare al di là dei costi per essere molto concreti ripeto o rifare le ombre dell'ogno o ricomprare le cabine dove ci andiamo a cambiare con le nostre famiglie lo Stato non dà certezza del rinnovo non sarebbe meglio venderle e fare a loro gli imprenditori ultima domanda devo dire che è molto interessante questo pacchetto applicativo Paloma denominato a voi Paloma perché diciamo che voi l'ho chiamato una vetrina immobiliare quindi effettivamente sarebbe straordinario qualora riuscisse in questo intento Presidente allora detto questo noi qua siamo stati abituati dal Presidente ad avere una una logica che devo dire ha visto molti enti pubblici anzi tutti dovesse sincero a secondare questo nostro diciamo supporto e alla fine vincere anche delle scommesse importanti fattura elettronica fatturazione elettronica e altro che ovviamente sono state rispettate nelle date allora 730 pre compilato 730 pre compilato quindi voglio dire sarebbe bello se oggi l'agenzia del demanio ci desse una tempistica per far sì che questo pacchetto applicativo diciamo trovi nella sua interezza una capacità non solo di sviluppo teorico ma anche di immediata e capace applicazione da parte degli utenti con un esempio che neanche a farla posta è quello che ha fatto anche il Presidente Pocanzi c'è un'esigenza non solo in mondo privato ma anche pubblico di avere ben chiaro tutto questo noi qui siamo stati presi poco fa nei mesi scorsi da un trasferimento di immobili e c'è stata tanta fatica nel verificare e trovare gli immobili che potevano essere utilizzati dalla Camera dei Deputati per dire un esempio concreto quindi non è soltanto un bisogno dei privati ma anche del pubblico in generale che non si sa regolare e che vive in pieno terzo millennio di logiche approssimate e attraverso il passaparola non può funzionare allora sentire che c'è un applicativo che voi su cui voi state studiando è una cosa che personalmente ci dà gioia però vorremmo capire se è fantasia teoria utopia oppure se è una cosa concreta e allora vorremmo sapere se esiste una tempistica su cui ovviamente ci vorremmo positivamente misurare con voi vi ringrazio per le domande che mi permettono di completare l'esposizione intanto è giusta la sollecitazione a chiarire bene qual è demagno pubblico e cosa gestisce l'agenzia del demagno i beni che sono rappresentati nella banca dati REMS di cui vi ho parlato i 47.386 beni per un valore di quasi 60 miliardi ovviamente non tengono conto del demagno marittimo non tengono conto del demagno idrico e non tengono conto del demagno militare ancora in uso al Ministero della Difesa cioè quei fabbricati prevalentemente che il Ministero della Difesa considera ancora strategici e che sono molto numerosi sono alcune migliaia man mano che il Ministero della Difesa diciamo rilascia questi beni questi vengono trasferiti al demagno che ne fa quindi l'incamera e incrementa il patrimonio gestito e riavvia verso un processo di gestione ottimale e razionalizzazione e infine laddove è possibile valorizzazione e vendita questo è il processo che noi utilizziamo per tutti i beni dello Stato la migliore gestione possibile dei beni che si sono dati in consegna quindi l'80% sono in uso governativo il 10% sono del magno storico artistico quindi sono musei diciamo utilizzi di questo tipo il 5% sono occupati da funzioni pubbliche come università e analoghe istituzioni soltanto il 5% è l'ho detto prima ma lo ripeto parlo di 5% del valore sono beni disponibili per la vendita per l'alienazione per la valorizzazione sono circa 20.000 questi beni oltre 5.000 ci sono stati richiesti dagli enti territoriali e li stiamo trasferendo mediante il federalismo demaniale le altre 15.000 li stiamo in qualche modo valorizzando per poi arrivare ad un'alienazione che consente di abbattere il debito pubblico sostanzialmente il demanio marittimo è comunque gestito nel senso che ci sono vari livelli di responsabilità le concessioni sono gestite dagli enti territoriali in particolare i comuni diciamo le questioni di carattere più generale che riguardano per esempio la definizione della dividente demaniale che è la linea di demarcazione tra il demanio marittimo e il resto è in capo alle regioni nel senso che sono le regioni a richiedere un'eventuale modifica della dividente demaniale ma è in capo allo Stato quindi all'agenzia del demanio l'effettiva sdemanializzazione decisione di assecondare tra virgolette le richieste delle regioni ecco queste responsabilità diffuse e distinte sono state raccolte in questo disegno di legge che verrà presentato al più presto nel percorso parlamentare una volta che avremo chiaro quali sono i limiti posti della Volkirsten in sostanza il sottosegretario Gozzi sta trattando con l'Europa per capire quale sarà il termine ultimo entro il quale noi saremo obbligati a effettuare le concessioni a tempo per l'utilizzo del demanio marittimo cosa che ora non avviene per il nostro patrimonio noi giustamente diceva onorevole abbiamo quasi 8000 chilometri di coste e abbiamo una riscossione di circa 100 milioni di euro complessive di canone mi sembra abbastanza ridotto come valore se fate il conto di quanti euro per metro lineare incassiamo quindi è sicuramente uno strumento cioè diciamo un bene da valorizzare in altro modo premiando chi quelli che fanno i migliori investimenti e garantiscono una qualità del servizio ottimale ecco a questo proposito vi dico che nel disegno di legge che è gestito in particolare dal sottosegretario Barretta insieme al sottosegretario Gozzi incardinato tutto sotto il ministero degli affari regionali si terrà conto nella proposta che sta venendo avanti di una riequilibrio anche di equità nei confronti di chi paga troppo e di chi paga poco in sostanza quindi l'obiettivo è arrivare a una valorizzazione del nostro bene del demanio marittimo portando un riequilibrio equo oggi questi canoni sono incassati dall'agenzia del demanio ma le concessioni vengono registrate sul sistema informativo gestito dal ministero delle infrastrutture che si chiama SID quindi è un sistema informativo a parte che viene alimentato o dovrebbe essere alimentato meglio dire dagli enti territoriali quando gestiscono le concessioni in capo al ministero delle infrastrutture che dovrebbe controllare l'effettiva alimentazione vi dico che purtroppo questo sistema non è alimentato correttamente è popolato solo in parte e infatti nel disegno di legge viene introdotto un obbligo con sanzioni qualora non venga alimentato correttamente per quanto riguarda il tema degli enti territoriali ecco io vi ho rappresentato il sistema del patrimonio dello Stato quindi 60 miliardi di valore circa 47 mila oltre 47 mila beni tenete presente che gli enti territoriali hanno approssimativamente il triplo del valore di beni il numero più o meno sarà anch'esso il triplo è un patrimonio molto distribuito quindi complessivamente si può stimare in circa 250 miliardi di euro il patrimonio dello Stato parlo di valore di libro chiaro che è un valore il valore viene definito nel momento in cui c'è qualcuno che vuole comprare e che è disposto a pagarlo però il valore di libro che caratterizzano il nostro patrimonio ma anche quello degli enti territoriali da una cifra di questo tipo le province in particolare hanno una quota parte di questo patrimonio ci stiamo preoccupando di questo patrimonio un po' per gestirlo al meglio ovviamente un po' per aiutare le province che hanno difficoltà a far quadrare i bilanci in particolare è una parentesi utile penso al ragionamento che stiamo facendo i beni delle province in uso alle forze dell'ordine parlo delle caserme dei carabinieri provinciali prevalentemente delle caserme dei vigili del fuoco delle prefetture delle questure rappresentano sono quasi tutte le proprietà provinciali le piccole caserme dei carabinieri invece sono dei comuni o a volte anche dei privati però le caserme provinciali che risiedono normalmente nei comuni capologo di province sono di proprietà delle province per questi beni e per questa occupazione delle forze dell'ordine lo Stato paga circa 48 milioni di euro di canoni alle province quindi il valore di questi beni appunto valutato sui canoni pagati i canoni vengono in genere considerati il 5% del valore dell'immobile fanno stimare il patrimonio in uso le forze dell'ordine fatto il conto circa 50 milioni di euro di canoni per 20 quindi 5% al 100% sono un miliardo un miliardo di valore questi beni questi beni stiamo valutando e stiamo costituendo un fondo immobiliare ad hoc per acquisirli per acquistarli abbattendo il debito pubblico delle province consentendo loro per quelle che hanno debito di abbattere il debito singolo per quelli che non ce l'hanno di poter utilizzare queste risorse per fare investimenti è un'attività che stiamo portando avanti insieme ad InVimit che è lo strumento del MEF il fondo immobiliare che è appunto strumento finanziario che costituisce fondi immobiliari diretti o in partecipazione ai fondi locali che consentirà di abbattere appunto il debito di questi enti di acquisire questi beni di rigenerarli e metterli in sicurezza renderli efficienti dal punto di vista energetico tecnologico e di consentire un benessere a quelli che lo utilizzano perché come ben sapete immagino molti di questi beni non sono perfettamente in regola a norma quindi un'operazione che appunto aiuterà da una parte le province e dall'altra consentirà di rigenerare questi beni parlando di vendite straordinarie si diceva che sono danno diciamo risultati al di sotto delle aspettative beh c'è da dire che in parte le aspettative erano state alimentate un po' troppo perché si pensava che il patrimonio dello Stato non utilizzato comunque disponibile fosse chissà di quale valore e chissà di quale interesse vi ho dimostrato che in realtà è il 5% del valore rappresentato da circa 20.000 beni sparpagliati in tutto il territorio piccoli fabbricati quasi mai a norma in stato di non dico degrado ma comunque con interventi di manutenzione straordinarie da fare molto consistenti quindi sono beni che non sono molto appetibili dal punto di vista del mercato infatti il nostro problema è di tenerli in uno stato di conservazione dignitoso avendo scarse risorse per farlo detto questo le vendite straordinarie stanno comunque andando avanti soprattutto utilizzando caserme di smesse nei centri storici di particolare valore e rilevanza vi cito una qui a Roma per farvi capire la caserma di via Guidoreni che l'anno scorso è stata due anni fa per la verità è stata acquistata la cassa depositi e prestiti e sta per essere valorizzata con una funzione un utilizzo multiplo per housing sociale per residenza privata per funzioni pubbliche quindi con funzioni miste che danno un valore molto significativo al bene questo per dire che ci sono dei beni di interesse per il mercato nazionale e internazionale ma richiedono un'ulteriore come dire lavorazione e cassa depositi e prestiti è lo strumento che si presta a fare questo lavoro di ulteriore valorizzazione rispetto al punto di partenza in cui noi riusciamo a trasferire il bene quindi se volete ci sono tre soggetti in campo il demagno che gestisce al meglio il proprio patrimonio razionalizza gli spazi libera i mobili li valorizza fino a un certo punto fino a dare la destinazione urbanistica migliore insieme agli enti territoriali e poi passa questi beni o a Invimit che attraverso i fondi immobiliari richiama investimenti per la valorizzazione territoriale oppure a Cassa Depositi e Prestiti che li lavora ulteriormente e li mette poi su un mercato privato definitivo quindi questo è il processo che stiamo gestendo con Cassa Depositi e Invimit naturalmente è un processo che è partito da poco tempo e sconta tutte le difficoltà dell'avviamento ma vi assicuro che ha già garantito alla riduzione del debito dello Stato valori significativi nel fine 2013 mezzo miliardo di euro l'anno scorso 250 milioni di euro quest'anno contiamo di abbatterlo di un altro miliardo di euro tra vendite straordinarie e utilizzo dei fondi immobiliari che comunque portano fuori dal perimetro pubblico questi beni e quindi consentono la loro dismissione per completare le risposte siamo impegnati a rendere pubblici tutti questi dati quando parlavo di sistema open data è proprio quella la direzione verso cui stiamo andando tutti i sistemi i due sistemi che noi abbiamo sia il REMS che il PA in parte sono già pubblici vorremmo arrivare rapidamente a rendere tutto pubblico il sistema paloma funziona già è già alimentato per la verità più dal pubblico che dal privato ma è possibile già ora accedere e per il privato presentare le proprie offerte così come per il pubblico segnalare i propri fabbisogni si si nel senso che già no in realtà adesso vi faccio un esempio che tra l'altro all'ordine del giorno i i palazzi marini i palazzi marini 1 2 3 4 no che sono state richieste dalla camera dei deputati la camera dei deputati ha chiesto l'utilizzo del marini 3 l'agenzia del demagno ha fatto una valutazione di congruità del canone che il proprietario del marini 3 ha richiesto e nella valutazione che è stata fatta dal demagno con un sistema comparativo estimativo è uscito un numero che guarda caso è identico o molto simile a quello che lo stesso proprietario dei palazzi marini su un altro immobile identico a quello il marini 1 ha inserito su paloma salvo poi contestarlo ma questa è una cosa che non ho ancora capito come mai no però il proprietario dei palazzi marini ha utilizzato lo strumento paloma per dire questa è la valutazione del mio palazzo per cui nello stesso momento la camera dei deputati ha manifestato un fabbisogno allocativo che coincideva con l'offerta del proprietario dei palazzi marini per un analogo palazzo a fianco per dire che utilizzando il sistema paloma si può davvero mettere d'accordo alla domanda dell'offerta quindi da questo punto di vista è un sistema che funziona per arrivare alla domanda provocatoria tra virgolette sulle spiagge è meglio venderle o per farle fruttare e migliorare il servizio oppure qual è l'altro sistema beh io sono convinto che il sistema migliore sia quello della concessione di valorizzazione cioè dare in concessione per un periodo di tempo ai soggetti che sono in grado di valorizzarlo al meglio oggi non esiste una competizione tra concessionari perché non esiste di fatto la concessione che si mette a gara nel demanio marittimo col nuovo disegno di legge che stiamo costruendo invece è richiesto anche dalla Bolkestein sarà obbligatorio definire un periodo di concessione che sarà da un minimo di 6 anni probabilmente a un massimo di 30 o comunque 25 anni dove verranno considerati i progetti di valorizzazione migliori e attraverso gara pubblica di evidenza pubblica e quindi io sono convinto che ci sarà la possibilità di avere un servizio molto molto più significativo in termini di qualità o quantomeno saranno tutti stimolati a far meglio di quanto stiano facendo ora quindi in prospettiva prego prego rischiare di investire del denaro per dare dei servizi eccellenti ai turisti e per far fare la figura anche l'Italia decine di anni di privilegi e non hanno investito lo stesso cioè attenzione non è che improvvisamente perché non l'hanno fatto prima l'esempio che tu hai preso la Costa Azzurra negli anni 60 è nata i concessionari sono gli stessi dagli anni 60 fino ad oggi Pelillo conosco bene il sistema su bene anche lui quante richieste di firme ci sono della Liguria per fare questa cosa ci sono stabilimenti che non vengono fatte le docce adesso quello che è successo 30 anni fa si Pelillo ma Pelillo ascolta si si la Liguria io conosco bene la Liguria però Pelillo io non sto parlando di quello che è successo prima sto parlando di quello che succede adesso punto noi per quello che ha detto lei sui giornali francamente se noi potessimo cedere vendere per fare in modo che si costruiscano delle cose e si rendano migliori delle situazioni oggettivamente noi non so se sa la raccolta delle firme della Liguria per quanto ci si chiama le concessioni perché sono quasi abbandonate perché hanno un canone d'affitto pazzesco non c'è la certezza del rinnovo se invece di pensare ai 6 anni e ai 30 anni ci fosse la possibilità di venderle proprio relativamente al discorso che faceva lei sui giornali cosa ci costa metterle a posto renderle fruibili e venderle perché la gestione di tutto questo patrimonio alla fine le riporto per essere molto concreto la regione Piemonte con tutti i beni dello Stato che abbiamo la regione Piemonte ha comprato un altro stabilimento ha fatto un grattacielo ha costruito un grattacielo e l'ha acquistato e poi magari abbiamo degli stabili in regione Piemonte non affittati che non ci va nessuno e che sono diventati dei dormitori noi abbiamo acquistato lo ripeto un discorso concreto un grattacielo in Piemonte acquistato dalla regione Piemonte poi con degli stabili che invece sono oggettivamente abbandonati per cui ritornando a un discorso più imprenditoriale quello delle spiagge perché se la concessione è da 6 anni e 15 anni difficilmente faranno degli investimenti se la concessione è 50 anni forse qualcuno potrà inventare dei soldi e le posso garantire che c'è una raccolta di firme della sensibilità almeno per quanto riguarda la Liguria ma penso nella sua regione identica di questi imprenditori che non fanno assolutamente niente perché sono appesi a una decisione che ancora non c'è ma in realtà penso che i 6 anni è il limite minimo e probabilmente vale per le piccole spiagge dove l'investimento però è quello del limite minimo ma è chiaro che i 30 anni anche per me potrebbero essere più lunghi ma io dicevo la vendita la vedo male in questo senso una volta venduto il bene chi è che stimola il soggetto a fare meglio l'impresa certo però di sicuro ma il mercato allo stesso modo stimola nel momento in cui c'è un potenziale ricambio per cui se io do un tempo sufficiente per recuperare un investimento anche consistente quindi 30 40 50 anni ma nello stesso tempo garantisco il possibile potenziale ricambio del soggetto che fa l'intervento do due elementi di stimolo che favoriscono l'imprenditorialità no? perché il primo è quello di avere il tempo per l'investimento per recuperare l'investimento in competizione con altri perché nel momento in cui uno acquista un bene e se lo mantiene in una posizione privilegiata anche se fa pochi investimenti la gente va lo stesso proprio perché è in un posto privilegiato se invece questa competizione viene fatta tra più soggetti che per la stessa zona privilegiata devono concorrere con un tempo sufficiente a recuperare investimenti anche consistenti il prodotto a mio avviso sarà molto più significativo in termini di qualità di solito diventano imprese familiari no no ma certo sono imprese familiari 5 anni che so che riscate la concessione oggettivamente mi scusi ma io posso rinnovarla cioè io ho tutto l'interno perché non venderla perché venderla secondo me alla lunga non hai quell'incentivo a mantenere alto la qualità del servizio no il servizio non è gestito dallo Stato in questo momento è inesistente ma non è gestito noi continuiamo con queste mentalità ma noi penseremo un'utopia futura le spiagge il demanio marito non è gestito dallo Stato no sono privati che però non vanno in competizione tra loro e non fanno concessione hanno concessione illimitate no e questo non li stimola certamente a fare investimenti e a migliorare il servizio ce l'hanno per sempre e che qual è lo stimolo a migliorare il servizio no cioè mettendoli in concessione mettendoli in concessione di durata ampia ma con scadenza che appunto mette in competizione più soggetti privati quello che si è aggiudicato che si aggiudica alla concessione sarà il migliore di tutti quello che garantisce gli investimenti migliori ed è lo stesso che farà di tutto per mantenersi quella concessione alla successiva scadenza no per cui non sarà incentivato a ridurre la qualità del servizio avendo un orizzonte temporale che finisce no e quindi è un meccanismo che si autoalimenta a mio avviso virtuoso no se noi vendessimo un pezzo di spiaggia no vabbè ma quel pezzo di spiaggia per quale motivo dovrebbe essere incentivata la qualità del servizio ma ma mi spiegate qual è l'elemento che ha maggiore appeal nel confronto dell'investitore nel momento in cui gli vendono il bene il proprio investimento il proprio capitale cioè si ma penso che sia la leva che più di tutte fa in modo di rendere ma mettere in competizione invece no scusi per gli ultimi quattro anni io e devo vincere ancora no sì e allora io trovo una persona che offre una lira più di me la mia attività di solito queste persone erano delle attività sono del posto conoscendo un minimo i rapporti gli ultimi quattro anni gli ultimi due anni io trovo la persona che offre una lira più di me la mia attività familiare perché poi ci lavorano la mamma la figlia il papà io non capisco perché non si possa oggettivamente concedere a vita pago il problema del demanio non ci sarà più di fare le bandi la gara d'appalto tutte le serie privatizziamo queste cose punto come stiamo privatizzando tanti altri io sono convinto poi mi fermo qui penso di averla motivata penso di averla motivata adesso poi il tema è politico non tecnico per cui io mi fermo qui però dal punto di vista tecnico secondo me secondo me è più incentivante la competizione a scadenza che favorisce l'investimento migliore e lo mantiene nel tempo perché io devo ancora vincere una gara non è che ne ho vinta una per sempre e poi me ne posso come dire fischiare di quello che è la qualità del servizio no perché poi c'è un'altra scadenza dove io verrò misurato e se non avrò mantenuto il livello di qualità del servizio arriverà un altro che lo garantisce il migliore del mio però mi fermo qui in Italia di solito quando abbiamo fatto le privatizzazioni ci abbiamo guadagnato perché eh no guarda che mantenere a me fa ridere quando io ho letto un articolo suo che ho apprezzato cioè di mettere a posto gli stabili per cercare di venderli per cercare di essere fruibili perché altrimenti non ci può andare nessuno ed è un'idea giusta il primo tema è razionalizzare non è che posso andare in una caserma se poi alla fine non è fruibile per nessuno ma poi per venderle non per gestire a meno che l'Italia lo vuole diventare un'agenza immobiliare a livello europeo vendere vendere punto e lo stesso discorso io penso che il mercato aggiusta tutte le vicende per ritornare a quella discussione che facevamo il mercato da solo aggiusta le cose perché se io sono il concessionario di questa spiaggia e non la tengo bene e non la tengo pulita e non ho dei servizi d'orei tanti invece privati sulle spiagge secondo lei non funzionano cioè voi avete scusate però qua ma il mercato c'è lo stesso con le concessioni di valorizzazione no dimentichiamo scusate voglio dire una cosa voglio dire solo una frase solo due parole secondo me è stato non è stato considerato un elemento essenziale per il cambiamento del sistema primo la valorizzazione degli infissi che non possono essere trasferite Giovanni ha una spiaggia da 30 anni ha costruito magari abusivamente eccetera eccetera non sto parlando delle cabine sto parlando dei basamenti in cemento armato sto parlando del ristorantino quale valore dare a queste e questo è uno dei problemi altro discorso benissimo andiamo sulla concessione la concessione che forse per i signori della concorrenza è la migliore ipotesi è la migliore non voglio entrare in questo merito ma anche qui ci sarà il problema economico visto che l'economia è il mio mestiere le valorizzazioni che sono state fatte quando e quando e a che prezzo verranno restituite verranno restituite da chi dal concessionario o dal subentrante questo secondo me visto che conosco abbastanza bene le spiagge rosolina eccetera eccetera perché ho anche dei clienti visto che faccio il commercialista sono i problemi che si pongono ragazzi io lascio questa spiaggia ci ho messo dentro vent'anni di lavoro e centocinquanta milioni di costruzioni non sto parlando delle costruzioni che posso togliere ma costruzioni effettive che cosa mi date se me ne vado grazie volevo dire una cosa ma quindi alla fine c'è una tale disistima per lo Stato e per la gestione dei propri beni che si prende e si dà via tutto quanto ai privati a questo punto anche ospedali università scuole pubbliche perché il mercato si autoregola quindi se una scuola pubblica non fa arrivare i professori il giorno dopo si trova senza alunni quindi io penso che stiamo qui per avere un concetto di Stato un po' un po' superiore rispetto a quello schifo che abbiamo visto le scuole private hai mai sentito questa parola? sì certo le scuole private magari c'è ancora l'alternativa per chi non ha i soldi e vuole andare nella scuola pubblica che dici? oppure vogliamo dare soltanto spazio all'istruzione privata e magari decidere anche cosa dobbiamo imparare la ringraziamo di solito noi in commissione parliamo in maniera molto informale molto bene molto bene grazie a tutti